E qui al forum internazionale del Polieco C'è anche Luca Bete, famoso inviato di Striscia la Notizia Che tra le sue tante iniziative ha presentato l'ultima che non ci ferma nessuno Tour Universitario 2014-2015 Tutto nasce da una verifica proprio sul campo Nei numerosi incontri che io ho ottenuto negli anni passati con gli studenti Andavo lì convinto che volessero sapere tante cose di televisione, di comunicazione Alla fine le domande più frequenti erano Ma come hai fatto a coronare il tuo sogno? Hai avuto la raccomandazione? C'è qualcuno che magari politicamente condiziona nel bene e nel male Il percorso di una persona che ha un sogno e che lo vuole realizzare? Ebbene io davanti alle numerose domande E poi a tutte le risposte e tutte le discussioni che poi ne nascevano Ho capito che forse una delle emergenze più importanti Nei ragazzi in età universitaria È quella di capire come fare a coronare un proprio sogno C'è molto nero, ci sono molte nuvole, molte nubi intorno al futuro Questi ragazzi ho capito che avevano bisogno di alcuni punti di riferimento La testimonianza di una persona magari come me che faceva il clown E poi magari con costanza, con un pizzico di fortuna Con tanto studio e tanta passione È riuscito così ad arrivare lì dove non immaginava di potercela fare Quindi questo è l'esempio che noi porteremo In 15 università italiane Spaziando dal nord più lontano al sud più profondo Proprio per raccontare che magari ci sono delle testimonianze positive E creare una community, una piattaforma comune Dove tutti i ragazzi potranno diventare testimonial per gli altri ragazzi come loro